Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Nel video di oggi vedrete tanti ma tanti reali a rapica Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, vi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Mi raccomando superiamo i 70 like per questo video Nel video di oggi vedrete una giornata, un pomeriggio, meglio, a reali Molto ma molto interessante, ha un sacco di belle catture e anche qualche bel pesce Ci tengo a ricordarvi che lunedì prossimo uscirà la sfida trottale di me contro Davide Dunque mi raccomando ragazzi, segnatevi la data e se non siete ancora iscritti iscrivetevi Mi raccomando per non perdervi questa sfida che sarà da ridere, sarà piangere, sarà pazzesca Dunque non perdo altro tempo e via con il video Dunque mi raccomando No, 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 no. preso bello a texas bel reale bel reale a texas il pesciotto vediamolo eccolo la che va preso bello bello anche un cavigli d'anello sta distruggendo vai preso una scala opla preso un bellino questo opla un altro guardate e via una scala ho preso perciottino ok vai bello 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 salpa 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 grande tommy eh aspetta quelli che fanno via con il 004 che si apprendono la roba troc arriviamo la roba preso boom via via ecco bello uno dopo l'altro via 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 Ok Ho preso Altro bracciotto Questo pochino più piccolo Ho preso Bello Bello Via un'altra Vabbè Ho preso Eppla Oppla Ho preso Bello Eppla ah bello 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 ok che bello 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 ciao bellocci e un altro cavetano quando uno vuole andare a reali prendi i cavetano bellocci e un altro cavetano mancara bellocci e un altro cavetano